ciao a tutti e ben ritrovati qui insieme stavo riflettendo su una cosa su un dato di fatto tanti di noi cercano di arrivare da punto a punto b pensando che arrivando a punto b la nostra vita migliora ma non è che quello perché se si rimaniamo sempre sulla stessa coscienza anche punto b dopo un po non c'entra più bene perché ma anche la vera essenza quell'interiore quella spirituale qui credo che più che punto a punto b bisognerebbe fare un punto sulla propria coscienza vedere che punto siamo e la nostra consapevolezza di coscienza non solo quello che si sente coscienza ma essere consapevoli del perché si sente come mai si sente ed il perché farsi sempre tante domande questo sì perché quello che noto io e che tutti vogliamo vogliono prendere ma chi vuole veramente dare non puoi ricevere se non hai seminato prima se non è nemmeno in grado di distaccarsi dai propri vizi come fa uno a sviluppare la coscienza spirituale quando è attaccato alle cose esterne materiali è impossibile se tu sei attaccato al bere al fumare al sesso al benessere eccetera come fa sviluppare una coscienza spirituale sei completamente emerso in quello materiale devi distaccartene se non digiuni un po da quello che hai e sei succo di quello che hai e quando non ce l'avrai o non ce l'avrai come vuoi tu sarai triste sarai in stress perché sei abituato a stare in quella situazione per cui sei intrappolato in quella situazione tu pensi star bene ma in realtà stai male appena ti manca e qui dico bisognerebbe ragionare attentamente su questo noi siamo qui ok ci hanno dotato totato di tutto quello che c'è nel mondo che comunque non è nostro altre esseri viventi stanno attraversando questa esperienza in questo mondo noi ci prendiamo cura di loro stiamo facendo qualcosa anche per loro cosa stiamo apportando a questo mondo quello che stiamo prendendo lo sappiamo cosa stiamo dando in cambio oppure cosa stiamo dando ancora prima di prendere quanti di noi ringraziano qualsiasi cosa che arriva bello brutta che sia quanti di noi danno qualcosa o prendono e basta è come dire taglio un albero per la legna sì ma ne pianto anche un altro perché deve crescere se no non ci sarà più legna se continua a prendere non ci sarà più niente da prendere dato che tutto è in prestito in questo mondo viviamo tutti e noi agli altri essere gli animali eccetera dobbiamo avere una grande cooperazione tra ognuno di noi solo così potremo vedere il mondo con amore e con altri occhi perché senza questo modo saremo attaccati pensando che avremo mancanza se non abbiamo questo non abbiamo quell'altro eccetera ma come fa seriamente parlando come fa una cosa mancarti se c'è e ne puoi beneficiare cosa ti manca quello che dice la tv quello che ha il tuo vicino di casa cosa veramente ti manca quando tu hai la salute la consapevolezza la coscienza non ti manca più nulla perché l'universo ti dirà tutto quello che hai bisogno perché lo saprai gestire nel migliore dei modi credo che manchi proprio una base di informazione voluta all'interno di noi quanti di noi sono disposti andare a cercarla tirarla fuori sempre meno che io vedo all'inizio quando parlavo di cose si miglioriamo questo quell'altro stiamo bene biribì barabà ok quando si comincia andare un po più sul profondo scavare in noi stessi tra fuori le nostre cose guardare le nostre zone ombra per poi diventare più forti perché una volta che li identifichi ci lavori sopra diventi più forte io vedo questo poche persone vogliono andare oltre tanti vogliono arrivare solo da punto a a punto b perché rimangono lì e non gli interessa andare oltre interessa essere sottomessi e schiavizzati dalle cose materiali del mondo e e non vivere qui ed ora gli animali loro vivono qui ed ora noi facciamo fatica perché perché ci ricordiamo il passato ma poi se succede questo con l'altro eccetera per cui abbiamo paura il passato abbiamo paura che questo passato ritorni nel nel futuro però io dico ci ricordiamo il passato nostre nostalgie le cose eccetera ci preoccupiamo del futuro eccetera e nel presente cosa stiamo vivendo qui ed ora in questo momento cosa stiamo facendo per essere felici noi stessi nella nostra mente con le nostre azioni in connessione con nostro cuore che crea la nostra coscienza da condividere con nostro prossimo stiamo facendo questo questa è la vera domanda perché se non stiamo facendo questo non potremmo essere felici nonostante qualsiasi cosa materiale abbiamo è un po come appropriarsi di qualcosa che non è nostro appropriarsi di qualcosa in questo mondo dicendo che mio non c'è più falsità più grande perché niente è nostro nemmeno nostro corpo è solo uno strumento dato per questo viaggio per cui finché avremo questo attaccamento pensando che qualcosa qui è nostro cioè è follia pura è come dire va in vacanza e vai in albergo dice questo letto è mio è follia per cui perché lo diciamo su questo mondo è follia uguale però finché non svilupperemo questa coscienza rimarremo intrappolati perché lo vorremmo perché nell'era moderna credo che non saper le cose è una scelta che ci sono tante informazioni di tutti i tipi per cui non manca la scelta neanche dell'informazione in qualsiasi cosa poi se uno invece non vuole cercare se stesso ma solo guardare fuori allora c'è la tv e tutte le altre robe che ti imbottiscono dalla mattina sera di quello che devi comprare quello che fare quello che devi pensare o vivere e allora fai così come una marionetta come le pecore col pastore è una scelta è cioè non è che sia sbagliata perché ci vuole coraggio vivere da persone libere e non è da tutti perché devi essere consapevole devi affrontare te stesso devi affrontare tante cose però ti rende forte ti rende che tu veramente fai una vita che vale la pena vivere e non hai nemmeno tempo per lamentarti perché sei così impegnato a viverla che ogni cosa la vedi bella ogni cosa la vedi con amore perché tu scegli di viverla in quel modo là invece quello che scegli vivere materialmente rimane intrappolato nella materia per cui ti vedrai come stai ma sapessi cosa mi è successo e bla 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 perché perché è illuso è attaccato nella materia perché pensa che quello che gli succede è una cosa negativa ma non ha capito che è un segnale e qui io credo che dovremmo vivere su qui ed ora quando incontriamo qualcuno parliamo del presente non del passato non del futuro di quello che si vive qui ed ora perché il futuro è incerto il passato è passato per cui che senso ha viviamo adesso questa è la cosa più bella senza attaccamenti senza stress senza aspettarsi nulla a proposito di questo leggerlo anche un paio di messaggi che ogni tanto qualcuno di voi mi manda anzi sempre più spesso e questo ringrazio ecco chiedo sempre di non mandarli direttamente a me ma metterli sotto il video così è a beneficio anche di altre persone che leggono e io risponderò lì così sarà una cosa visiva tutti e sarà di beneficio per tutti perché questi video sono per sviluppare la nostra coscienza non perché lo dico io assolutamente no c'è ognuno proprio prendere degli spunti delle cose su cui riflettere e andare oltre perché scopo ultimo essere felici in questa avventura di vita non essere tristi e la maggior parte delle cose triste e basse frequenze come paura insicurezza eccetera sono dati solo da una visione sbagliata da una visione sulla materia pensando che noi siamo materia se abbiamo materia siamo felici ma impossibile perché la vera felicità duratura quella nello spirito non nella materia materia va e viene in continuo mutamento quello che oggi non è domani quello che ti da felicità oggi qualche hai comprato fra magari un mese non ti dice più niente questa è la materia materia non è duratura quindi non puoi pensare a trovare una felicità continua nella materia che non è così è come dire mangio e poi non avrò mai più fame e no poi mangerai ancora e ancora che devi nutrire il tuo corpo per cui abbiamo un corpo materiale dobbiamo nutrirlo di in materia ma è solo un nutrimento non è il fine ultimo non è che se noi abbiamo quello saremo felici in eterno no abbiamo solo usarlo come nutrimento tutto quello che usiamo è qui per essere utilizzato ma al beneficio del mondo del nostro prossimo perché se noi non metteremo a beneficio il nostro mondo come potrà il ridare a noi quella felicità che cerchiamo mentre facciamo mentre creiamo se noi cominciamo a farci queste domande sicuramente qualcosa si smuove in noi ecco per cui allora volevo leggere un paio di messaggi insomma quanto hai ragione ascoltarti mi ha dato un beneficio a volte si rimane un po come uno stagno ma le tue belle parole danno forza e input tanto grazie per questo che mi è stato mandato ed è un punto di riflessione ascoltarti mi ha dato un beneficio questo è lo scopo dei video dare dei benefici a chi ascolta ma ripeto non perché sono io che sto estraneando la persona di edward no e essere coscienti e capire chi siamo all'interno di questa persona che siamo come decidiamo di essere questa persona o questa altra persona perché noi lo decidiamo non è la persona che decide noi noi decidiamo quello che vogliamo essere il ruolo che vogliamo avere lo stato d'anno che abbiamo che vogliamo avere qui quando ci rendiamo conto di questo decidiamo anche come mettere in pratica la nostra persona ecco esserne sempre coscienti guardare la nostra persona come noi siamo dentro e guardiamo fuori le nostre mosse le nostre azioni eccetera ecco si rimane poi in uno stagno sì perché tante volte è facile cadere e rimanere nello stagno ma le tue belle parole danno forze input sì però non sono parole sono dei concetti sono delle riflessioni che non è che devono dare la forza l'input sì la forza anche no perché dal momento che non si ascolteranno più queste parole cosa fai non hai più forza no la forza deve venire in te per cui io posso dare degli spunti dare magari un punto di ispirazione ma poi ognuno di noi deve fare questo lavoro se no cosa facciamo stiamo là ad aspettare no dobbiamo sviluppare noi dobbiamo tirarci fuori l'input va bene però ognuno poi deve fare il proprio viaggio il proprio lavoro su se stesso tutto quello che hai detto concordo pienamente e ti ringrazio per tutto ciò che ci fai capire di noi stessi e di capire il significato della nostra esistenza terrena e di essere connessi per trovare la nostra anima terrena per una vita più serena un po' indorcolato però diciamo il succo del discorso comunque è sempre quello dare un'ispirazione per capire se stessi perché dando un'ispirazione per capire se stessi poi ognuno si mette in moto e quando tu metti quel semino prima o poi germoglia anche nei momenti nei posti più impensabili anche nelle persone più impensabili dobbiamo pensare perché quella persona se la passa male o è brutta e cattiva eccetera che non merita no magari sta soffrendo più degli altri per questo si ritrova in quello stato per cui dobbiamo dare ancora più amore perché quella persona possa veramente tirar fuori il suo divino in sé perché noi non lo facciamo per la persona lo facciamo per il divino che risiede in quella persona per cui se noi gli diciamo guarda che tu hai un copilota che si chiama spirito divino in te e se tu lo ascolti puoi vivere molto meglio all'inizio magari ci prende per pazzi sicuramente perché magari non sarà in grado di concepire perché uno tende a pensare che uno è pazzo quando tu non riesci a comprendere o vedere quello che lui vede ma non siamo nessuno per giudicare un altro ognuno ha la sua visione e va rispettata per cui diciamo anche se noi diciamo questo quella persona lì per lì non lo capirà per cui lo rinnegherà però intanto hai messo un semino nella sua coscienza e quel semino prima o poi darà i frutti e la storia ne è piena di questo per cui non fermiamoci solo a giudicare una persona perché la persona è una maschera esterna non è l'anima collegata con lo spirito divino che è dentro di lui non so se si riesce a capire però questo è insomma dobbiamo andare oltre oltre quello che si vede oltre la persona oltre il fisico oltre quello che una persona che dice che tante volte uno può essere preso dalla materia o dei sentimenti di delusione rabbia questo colato eccetera e non essere nemmeno cosciente di quello che è e anzi portare questa negatività verso gli altri e verso il mondo stesso per cui bisogna dirgli guarda che c'è un'altra cosa tu sei così perché hai cercato qualcosa dove non può esserci è come se tu vai nel deserto e cerchi l'acqua non può esserci ci sarà sì sicuramente sotto magari in certe oasi ma di base no per cui tu devi avere gli occhi per vedere dove devi sviluppare queste tecniche per capire dove è e devi cercarle dentro te stesso perché di certo non è fuori la felicità duratura è dentro non è fuori tu le mani fuori ma è dentro se tu non c'è dentro come fai a emanare fuori? non è che la felicità è fuori con quello che fai assolutamente no può danno soddisfazione lì per lì ma non è duraturo perché quello che ti dà felicità oggi domani diventa routine e dirai come mani mi rende più felice? allora cercherai ancora di più e ti dirai ancora più da fare invece di avere una cosa che ti dà la tua felicità ne avrai cento, dieci, mille, un milione e passerai la tua vita a rincorrere pensando che ogni volta ti dirai più felicità e invece ogni volta un po' è come una droga non ti basterà e per cui dovrai rincorrere e mettere di più e più ne metti ti dici oh adesso sono felice e poi non ti basterà e avanti e cosa facciamo? passiamo la vita a rincorrere una carota? cioè no passiamo la vita a scoprire noi stessi questo sì molto più intelligente a prere mio però sono scelta sono scelte che uno deve veramente volere e fare dentro se stesso per cui finché non sviluppa quella parte ulteriore di capire che ogni essere vivente non è la maschera che vedi fuori ma è il divino che è in lui in connessione con la sua anima è quello che è fuori solo un risultato della materia in cui si è perso eccetera cerchiamo ognuno a ritrovare se stessi no? per cui anche questi video servono proprio per questo magari anche se ne fate voi o ne vedete altre parti eccetera comunque mandateli alle altre persone perché non sai mai dove può germogliare questo seme per cui è importante vivere con questa coscienza e più vivremo e più daremo e più riceveremo grazie mille grazie ancora per esserci il mio più grande desiderio è che questo possa innescare una ricerca in noi stessi una ricerca serena felice una ricerca spensierata perché siamo esseri felici una ricerca in profondità in sincerità in onestà in verità ma soprattutto in umiltà perché se tu non sei umile non puoi ricevere niente l'umiltà è la porta principale che apre tutte le altre se non parti con l'umiltà non arrivi da nessuna parte l'umiltà non vuole essere stupidi l'umiltà vuol dire sono qui mondo dimmi cosa fare cosa posso fare per migliorare la mia permanenza qua in connessione con quello che tu mi stai dando in questo mondo perché noi non stiamo creando nulla è tutto qua non stiamo nemmeno creando il cemento per una casa è già qua stiamo solo facendo delle creazioni assemblandole ma c'è già tutto qui è come un grandissimo parco giochi per cui dobbiamo imparare a ringraziare ringraziare per quello che abbiamo e dire come posso fare questo mondo più bello per me per tutti così possiamo esserne tutti felici e godere tutti di queste bellissime cose che ci sono senza andare in stress e quando cominceremo a avere questa umiltà tante cose cambiano io ve lo dico perché posso parlare per me nella mia vita tante cose sono cambiate tantissime che stanno cambiando molto velocemente molto velocemente proprio di non dico di giorno in giorno ma di settimana in settimana sì perché più sviluppi quel tipo di coscienza e più ti arriva e più ti circondi di quella coscienza perché ti viene ridata c'è quello che le tue mani ti ritorna bene un grande abbraccio grazie per aver guardato e vi voglio bene e alla prossima ciao Grazie.